Avete già sentito perché ho votato per l'Inter, naturalmente, visto che sono incoerente secondo alcuni giornali dell'altra parte politica, sono preoccupato per l'affluenza, perché ho domandato agli addetti al voto e mi hanno detto che non abbiamo ancora raggiunto in questa sezione il 20%. Quindi io vorrei ricordare, profittando della vostra presenza qui, a tutti i cittadini della Lombardia e del Lazio che il voto non è soltanto un diritto, è anche e soprattutto un potere. È un potere che dà ai cittadini la possibilità di scegliere da chi vogliono essere governati e quindi la possibilità di incidere sul loro futuro. Per cui lo dico alto e forte, chi non vota non è un buon cittadino, chi non vota non è un buon italiano. Spero che tutti i cittadini lombardi e del Lazio vadano a votare e che questa percentuale di oggi, il giorno festivo, si sposti vicino a 100 domani lunedì, che è giorno feriale, quindi molta gente sarà andata nei weekend, sarà andata nelle proprie case al mare, sui laghi, in montagna, ma lunedì spero che ritornino e che compiano il loro dovere.